Goduria Club, disco party. Per info, radio.0, 334-9172772. Se non ci sarai, non potrai raccontarlo. In collaborazione con... Lini Scolari, Eppinger, Italpol Group. Tutto la biglietta, il vestito e i costumi, uomo, donna e bambino, con sconti del 20, 30 e 50%. Il Cercolo Ippico e i volontari dell'Alpe Adria si sono trasferiti all'Ipodromo di Montebello. Arrivarci adesso è facilissimo, basta un autobus. Tanti poni a disposizione per il battesimo a cavallo dei vostri bambini. E tanti meravigliosi cavalli, percorsi per adulti e bambini per vari livelli. Inoltre potete prenotare gli stagi estivi per i vostri bambini. I volontari dell'Alpe Adria vi aspettano all'Ipodromo di Montebello. Hai subito un incidente in Italia o all'estero? Hai avuto un infortunio domestico, sportivo o sul lavoro? Sei stato vittima di un errore medico ospedaliero? Quando gli eventi ti colpiscono, è fondamentale avere al fianco persone competenti in materia. Non rischiare, rivolgiti ai migliori incitati. Chiamala Health Assist. Da noi avrai tutto l'aiuto professionale per la tutela dei propri diritti e senza alcun anticipo di spesa. con la nostra lunga esperienza.